Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio. Io cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta ritornando e insomma va tutto bene. Un passo alla volta per tornare alla musica, ai fans, al palcoscenico. Red Canziana affida di nuovo ai social il suo messaggio per mostrare come la terribile esperienza dell'infezione al cuore, che a gennaio lo aveva costretto a ricovero in terapia intensiva, stia lasciando il posto alla normalità. Un Red Canziana decisamente migliorato rispetto al messaggio registrato all'ospedale Caffoncello per la sua prima passeggiata nel giardino del nosocomio. Era l'inizio di febbraio e già la sofferenza evidente lasciava il posto alla grinta di sempre. Una grinta che in questi giorni, con il ritorno a casa dall'ospedale, lo ha spinto anche a denunciare su Facebook il tentativo di raggiro di un truffatore che si spaccia per lui online con l'obiettivo di agganciare fans per spillare denaro in qualche modo. Devo mettervi in guardia, ha scritto in un post, da un ennesimo mascalzone che si spaccia per me. Io non ho chat dal vivo, non ho chat private e l'unico posto dove rispondo è proprio qui, sul mio Facebook. Vi prego di non cascarci in queste truffe e soprattutto di segnalarlo. Nel frattempo la voglia di tornare è tanta e soprattutto di riprendere la guida del suo Casanova Opera Pop. Vi manca solo una cosa, una cosa che è veramente importante, rivedervi, rivedervi, stare sul palco, abbracciarvi. Ma succederà presto.